Se il granello di frumento, caduto in terra, non muore, rimane infecondo. Se invece muore, produce molto frutto. Le persone tristi solitamente non fanno nobile. Se non piangere sui propri problemi, non c'è da preoccuparsene. Piuttosto bisogna preoccuparsi delle persone arrabbiate. Loro non espongono i problemi. Loro restano zitti e si danno da fare per cambiare le cose. A volte, le cambiano radicalmente. Mi dico, dottoressa, ne pensi davvero di poter aiutarmi. Cosa c'era scritto sul bigliettino? Quello che semini raccogli. Quello che semini raccogli, fratellina. Lo troveremo. Troveremo, basta. AARHH !!! AARHH !!! Grazie a tutti. The Reaping. Prossimamente.